occhio occhio devo ricaricare madonna mia questo era sdombolo vado uomo e me l'ha ammazzato alex che infame guarda che figlio di quella madre ignorante oh 220 220 guarda quella mamma bruttina 220 l'ho detto oh non mi rubate i morti ehi guarda che si è fregato che si è cercato di sopravvivere in realtà si sparano uno è morto ok ho messo questa roba di scuri dai ragazzi uno contro quattro non potete perdere è vostra è vostra è mio non me lo rubate no ormai muore così ma non è possibile allora ho una difficoltà di mezzo c'è effettivamente ho quelli che non hanno gli avambracci ho quelli che ti bildano la madonna perché così non c'è così non c'è neanche gusto così perché poi è vero che ti dicono e ma state giocando contro i bot è vero però cosa sono ieri ieri era difficile un po' ieri era astro difficile ieri era impossibile è arrivato è arrivato quello lì con il tronco di clash royale è arrivato che aveva 24 vittorie di fila non 24 vittorie 24 vittorie di fila di fila tutte di fila ma dove sono questi regali